Ciao ragazzi, sono il professor Marco. Con questo video vi propongo la risoluzione di un semplice quesito presente nelle prove di umanasi anno 2012 per le scuole secondarie di primo grado, scuole medie. Il testo chiede di determinare qual è la decima parte di 10 alla ventesima, quindi del numero 10 alla ventesima e vi sono le quattro alternative proposte, solo una di queste corretta. Cosa significa trovare la decima parte? Cosa vuol dire trovare, determinare la decima parte di un numero? Perché 10 alla ventesima altro non è che un numero naturale, è una potenza di 10, ma è un numero naturale. Equivalentemente cosa vorrebbe dire trovare la quarta parte, la quinta parte, trovare la quarta parte significa dividere per 4 un determinato numero, trovare la sesta parte dividere per 6, trovare la decima semplicemente dividere per 10. Ecco che se dovessi dividere 7 rispetto a 10, quindi per 10 per trovare la decima parte, andrei a eseguire la divisione tra 7 e 10 e giungerei a 7 decimi, cioè 0,7. Così, anche muovendosi nell'insieme dei numeri irrazionali, radice di 2 diviso 10 è pari radice di 2 fratto 10. Circa 10 alla ventesima, 10 alla ventesima diviso 10, ho riscritto il 10 come un 10 alla prima, in modo da poter applicare la proprietà delle potenze riguardanti il quotiente, cioè la divisione, tra potenze che hanno la stessa base, che mi porta a una potenza che per base ha la stessa, in questo caso 10, e per esponente la differenza tra gli esponenti, quindi 20 meno 1. Nel complesso, quindi, la decima parte di 10 alla ventesima è pari a 10 alla diciannovesima, quindi l'opzione D è l'opzione corretta. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'appuntamento al prossimo video, se vi va iscrivetevi al mio canale e commentate. Alla prossima!